La strategia nazionale per le aree interne e i nuovi assetti istituzionali è il progetto del DFP attuato da Formex PA che supporta il Comitato Tecnico Aree Interne e le 72 aree della strategia nazionale per le aree interne nella definizione e consolidamento di forme di gestione associata dei servizi pubblici locali per il requisito per l'ammissibilità alla SNAE. Le principali attività progettuali riguardano il supporto ai comuni delle aree nella costruzione di sistemi intercomunali, il sostegno alla riorganizzazione del governo locale, la valutazione dello stato associativo sui territori per garantirne l'operatività, la verifica dell'assolvimento del requisito associativo. Altre attività svolte nell'ambito del progetto sono l'attivazione di specifiche azioni di assistenza in risposta ai fabbisogni espressi dalle aree, il monitoraggio del funzionamento delle gestioni associate e dei modelli di governance per l'attuazione della SNAE. Gli incontri on-site e online sono stati 360, mentre 13 i seminari realizzati, con il coinvolgimento di oltre 3.750 persone. E' in corso l'analisi del funzionamento dei sistemi intercomunali disegnati dai comuni con 15 aree monitorate, prodotti 72 dossier, uno per ciascun'area che ne sintetizzano le condizioni strutturali e tre pubblicazioni su temi inerenti all'associazionismo e la sua attuazione. Ma la storia continua. Altri incontri sono in preparazione per seguire l'evoluzione dei modelli di integrazione e per superare gli eventuali ostacoli. Nuovi volumi sono in preparazione per dare conto dei cambiamenti, delle esperienze positive, ma anche delle criticità da correggere nella nuova stagione SNAE che sta per iniziare.